Alla ricerca di punti pesanti Renato Curi-Angolana e il Delfino Curi-Pescara. Mister Raghini recupera Miani in attacco supportato da Farias e Casati. Guglielmo Bonati si presenta a Città Sant'Angelo con fiducia nel suo 4-2-3-1. Falco, Massa e Gobbo assistono di Giovacchino. Fischia Angelo Davide Lotito di Verona. Passano pochi secondi e Farias rientra e calcia a risposta di Sant'Oro che sostituisce Calore. Sull'angolo palo clamoroso di Casimirri che da pochi passi non riesce a siglare il vantaggio. Gioca bene anche di rimessa la formazione di Raghini, assist geniale di Miani per Farias. Sant'Oro si salva con i piedi. Sul versante opposto prova il gol della domenica, l'ex Massa, palla alta. Ruggeri suggerisce nello spazio per Miani, Sant'Oro si fa trovare pronto. Sugli sviluppi di una punizione di Casati, la Renato Curi Angolana passa. La carambola favorisce al centro Miani che davvero Bomber sblocca la partita. 1-0 e nono centro per l'ex Alba. Risposta della squadra di Patron Paluzzi. Calcia Falco, palla fuori di poco. Nella ripresa immediatamente pericolosi i nerazzurri. Miani di testa su calcio d'angolo sfiora il palo. Altra bandierina, Polletta. Si ritrova solo ma manca l'impatto perfetto con il pallone. Gara ricca di episodi su calcio da fermo. È la volta di Farias arrivare prima di tutti su un corner inzuccata imprecisa. Entra bene in campo Tamboriello. Pu domanda in angolo il suo tentativo velenoso. Sempre il portiere 2003 è strepitoso sulla bordata di Di Giovacchino dal limite dell'area. Spingono gli ospiti. Tamboriello pennella al centro. Rosini si divora la rete del pareggio. Nel quinto minuto di recupero clamorosa occasione per gli ospiti. Di Giovacchino tiene fisicamente e vola via. Assist al centro per un tiro in porta che non arriva. Sul pallone si avventa Tamboriello che si vede negare la gioia del pareggio ancora da un super puddu. Finale al Petruzzi di Città Sant'Angelo. Seconda vittoria consecutiva per l'angolana che ottiene tre punti importanti in classifica contro un buon Delfino Curi Pescara. Mister Achini oggi una vittoria importantissima soprattutto perché dopo un buon primo tempo poi nella ripresa si è stati bravi a combattere su ogni pallone e ottenere tre punti pesanti. Sì, primo tempo siamo passati in vantaggio. Forse dobbiamo anche raddoppiare in qualche situazione. Poi mi è piaciuta la voglia di sofferenza nel secondo tempo perché comunque è normale che una squadra come una del Fino Curi ti mette in difficoltà comincia a buttare palloni lunghi e siamo andati un po' in affanno. Però la squadra ha retto e ha portato a casa un risultato come dici tu importantissimo. Possiamo dire che sia questa la principale novità rispetto al girone di andata o alle prime partite cioè che la squadra sta iniziando anche a saper soffrire? Quello che ho chiesto nei momenti di difficoltà adesso cominciano a fare quello che gli chiedo e oltre a giocare bene a soffrire quando c'è da soffrire perché è un campionato dove bisogna lottare su tutti i palloni e su tutti i campi. Ultimamente lo stiamo facendo è bene e speriamo di continuare. Mister Bonati, un ottimo secondo tempo però è mancato soltanto il gol? È un buon primo tempo dove loro hanno fatto bene altrettanto. Abbiamo subito delle occasioni da gol su pallina attiva soprattutto, credo di ricordare. e noi qualcosina già avevamo fatto il primo tempo. Il secondo tempo bene, molto bene. La reazione è ovviamente facciamo fatica a fare gol, questo è innegabile anche se ci siamo arrivati tante volte. Nelle ultime tre e quattro partite siamo arrivati tante volte di là e in questo momento ci dice anche un po' male. Fa parte del calcio, sono momenti. La squadra è unita, la squadra sta bene fisicamente. Sapevamo di dover lottare fino all'ultima giornata. Secondo me abbiamo raccolto veramente poco in queste partite perché fare quattro sconfitte consecutive per chi ha visto le partite ovviamente è difficile da comprendere però ovviamente ci sono degli errori perché se le sconfitte non arrivano mai per caso e poi quattro consecutive non è che arrivano per caso quindi dobbiamo lavorare sugli errori non perdere la mentalità e non perdere la fiducia in noi stessi perché ripeto abbiamo dato delle risposte importanti in un campionato che è di alto livello e sappiamo di dover soffrire fino alla fine.